Le tele di Matteo Masiello erano mondi pieni di tutto, dove ritrovavi l'inquietudine dell'uomo moderno ed un silenzio pieno di sogni perduti. Certo, dopo l'ecoimpressionista degli esordi, la sua arte si era fatta filosofica, nel senso che veniva partorita da una poetica ben delineata, tal che ogni pennellata nasceva da una meditazione pensosa e dolente, ma chiara, sull'esistere. Era logos che si faceva immagine e storia. La metamorfosi dell'uomo era passaggio da uno stato all'altro, come se la vita ogni poco avesse bisogno di una morte per rinnovarsi. E poi il tempo, che regnava sovrano in quelle opere di respiro profondo e insieme intellettuale, segnava tutto quel che sfiorava, quasi trasfigurandolo. Le figure che le popolavano, infatti, sembravano immoti in un dialogo impossibile e insondabile, referto indiscutibile di una incommunicabilità tutta novecentesca. Ma in questa incertezza del racconto, il dato inattaccabile, sicuro, preciso, era il colore. Il litore di cromie esatte non lasciava spazio a sfumatura alcuna. Masialo era pittore caffiano, in grado di sublimare la realtà in un sopramondo sospeso e magico, che lo mitridatava dalla minaccia del male dei giorni, custodendo intatto, però, il mistero imperscrutabile del nostro transito fugace qua giù. Nato nel 1933 a Palo del Colle, è stato bitontino vero, autodidatta della tavolozza, da operaio a dirigente generale ministeriale, tutto e provoca. Prima esposizione nel 1970 a Roma, otto anni dopo, lo presenta Palermo nell'Opponente. Nel curriculum, numerosi riconoscimenti, tra cui il premio internazionale meneghino La Madonnina nel 1984, è invitato all'undicesima quadrenale d'arte di Roma e a manifestazioni artistiche in molte città italiane, in gioiella di sue illustrazioni, libri, riviste e giornali. Non c'è paese estero che non abbia ospitato le sue mostre, Russia, Romania, Stati Uniti, Svizzera, Belgio e Israele, e trattasi di elenco approssimato per difetto. Lucia Anelli, in lui scorgeva la capacità di abbinare la visione onirica e turbinosa del mondo ad una satira tagliente ad una vasta e profonda cultura. Era, secondo Nicola Piccia, un maestro fantasioso di mondi invisibili che conducevano fuori dall'angoscia delle sistere. Pittore di sogni e misteri, uno degli artisti più insigni e originali della nostra terra, ha scritto Giovanni Procacci. Marino Pagano lo ha definito campione del realismo magico e profondo conoscitore dell'evoluzione di scuole e stili. Alto, austero, rigoroso, anche ironico, qualche anno fa decise di donare gran parte della sua produzione al comune di Bitonto, da sistemare nel primo anello del Torrione Angioino. Qualche era un amorevole ovaggio fu scambiato per una sorta di indebita usurpazione. Le opere furono messe bruscamente alla porta in nome di più nobili intenti. Le accolse la città di Trani, che all'inclito autore bitontino dedicò a un'intera sala del municipio, umane mestizie, dalle quali il grande Masiello da qualche giorno è stato svincolato per sempre. Sit tibi terra levis, caro Matteo.